Buonasera a tutti dal vostro grande capitano Napoli che è il gol della Madonna che ha fatto il Kvara che è il gol della Madonna che ha fatto il Kvara è appena finito Napoli-Atalanta, fevole per la 26esima giornata di serie è il grande Napoli che batte il 2-0 dell'Atalanta con un gol straordinario di Kvara-Dona che fa un gol che ricorda tanto un gol di Roberto Baggi di un Inter Real Madrid di circa 20 anni fa un gol della Madonna, veramente pazzesco, andatela a vedere poi fa il 2-0 anche Rachmani, quindi più 18, la capolista se ne va sull'Inter e se anche la Lazio dovesse vincere a Bologna, sono sempre 17 punti in più non era una partita facile contro l'Atalanta, sappiamo il calcio propositivo di Gasparini ma grandissimo Napoli che ha attaccato, ha spinto sull'acceleratore quanto era da spingere senza troppo sbilanciarsi, straordinario Napoli, speriamo per Kim non sia nulla di grave un problema al colpaccio ma non dovrebbe essere al condizionale, nulla di grave straordinario Napoli che vince 2-0, quel sogno, quel sogno, quel sogno che inizia con la S, finisce con la O, pian piano con pacatezza si sta avvicinando sempre di più ciao Gasparini, straordinario Napoli, straordinario Kvara Schella che fa un gol veramente pazzesco incredibile, straordinario, undicesimo gol in campionato, finisce così Napoli, Atalanta 2-0, forza Napoli, la capolista se ne va, ciao Gufi